Ciao ragazzi, io sono Sheila, vi tengo aggiornati sulle novità di Dresden Press e sulla Lana Lore. In questo video voglio farvi vedere come completare tutti e tre i capitoli per salvare Lana. Sarà un tutorial molto dettagliato, così che tutti possiate, appunto, completare le tre quest per ottenere questi tre item, quindi scudo, corvo e vestito. Il corvo ha anche la versione nella gabbia ed infine anche questo abito per la versione maschile. Ma prima di cominciare, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commentino e, come sempre, vi ricordo che mi trovate su Twitch live a giocare Dresden Press assieme a voi mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle 2 di pomeriggio. Per accedere alle quest dovete passare questo portale che si trova all'interno della nuova lobby. Nel primo capitolo vi ritroverete in mezzo a questa foresta e dovrete sostanzialmente raggiungere la casa di Lana. Per raggiungerla, in realtà, c'è un trucchetto che adesso vi andrò a spiegare. Il trucchetto è semplicemente seguire questi fiori bianchi. Avrete due minuti e potete anche correre con Shift e dovrete raggiungere la casa di Lana entro due minuti. E, ragazzi, non volete sapere che cosa accade se è allo scadere del tempo? Non lo volete sapere. Comunque, basta che seguiate i fiori bianchi. Vedete che comunque si vedono anche molto bene, visto che la foresta è altamente oscura, piove, c'è nebbia, eccetera, eccetera. E nel giro di poco, in teoria, dovremmo ritrovarci all'interno della casa. Vi consiglio di correre, però ecco, già vedete, si vede la casa lì. Eccola là, perfetto. Ci abbiamo messo un minuto, nemmeno. Con questo trucchetto, ragazzi, è facilissimo. Eccoci qua, perfetto. Abbiamo trovato la casa d'infanzia di Lana. Qui c'è Lana che ci parla e adesso dovremo trovare, praticamente, dei oggetti importanti per far fuggire Lana di casa. Sono sei oggetti, li trovate qui a destra. E quello che vi consiglio io, prima cosa, è andare nella fattoria, cioè non nella fattoria, però, insomma, questa casa, questa barn, di cui adesso non mi viene il nome in italiano. Comunque, qui troviamo la prima chiave, che è la chiave blu. Sostanzialmente, quello che bisognerà fare è scappare da un mostro a due teste, che poi vi farò vedere, recuperare le chiavi per sbloccare le porte con i lucchetti. Ogni lucchetto ha il colore della chiave, quindi noi adesso dobbiamo trovare la porta con il lucchetto blu. E nel mentre, prendere gli oggetti che servono a Lana. Quindi, entriamo dentro la sua casa. Ecco, il mostro è quello. La stanza con il lucchetto blu è praticamente al piano superiore, nella stanza dei genitori. E qua, dietro queste scatole, troviamo il primo item, che è la fotocamera. Andiamo a metterla nella valigia di Lana, nella sua stanza, che è sempre al piano superiore. Nella stanza di Lana troviamo, invece, la chiave rosa. E la chiave rosa sblocca la porta, piano inferiore, insomma, al primo piano. Sblocca il bagno. Qui recuperiamo la tavolozza. Comunque, vado di sopra, le ridò la sua tavolozza. Perfetto. Adesso vado nella stanza dei genitori di Lana, perché qui, appunto, c'è la chiave viola. La chiave viola serve per aprire una stanza all'estero. Ecco, sulle scale mi becca sempre questo qua. Vabbè, tenete conto che comunque avete sei vite. La chiave viola apre, eccolo qua. Questa casetta esterna. E qua si trova il teddy bear, l'orsacchiotto. Allora, ricordatevi che ogni volta che avete l'oggetto per Lana, dovete sempre andarlo a rimettere al suo posto. Le ultime tre chiavi, invece, sono tutte sotto, al piano inferiore. Ovviamente io, se non mi faccio beccare da questo qua, mentre scendo, non va bene. La prima è all'interno di questa pentola, ed è la chiave rossa che apre questo bunker, sempre all'esterno della casa, sulla sua sinistra. Qui troviamo il diario di Lana, rimettiamoglielo sempre nella sua valigia, e andiamo a recuperare le ultime due chiavi. Un'altra è ancora in cucina, qui nell'angolino, vicino all'arco, ed è quell'arancione che apre la porta, sempre al piano inferiore. E dietro il bidone trovate praticamente la lima per unghie. L'ultima chiave è nel salotto, di fianco al pianoforte, dietro la pianta. Questa non era facilissima da vedere. E apre il soffitto della stanza dei genitori. Dietro queste scatole troviamo il libro che racconta le storie greche. Tutti questi item sono inerenti alla sua storia, però poi, insomma, lo andremo a vedere bene in un video dedicato alla Lana Lore, che uscirà domani. Quindi mi raccomando, seguitemi su YouTube per non perdervelo. Quindi ripositiamo l'ultimo item, e così il primo capitolo è finito. Finalmente Lana ha tutti gli oggetti che le servono per scappare di casa, e anche qui poi, nel video di Lana, vi spiegherò perché vuole scappare di casa e che cosa è successo. Ma passiamo al secondo capitolo. Nel secondo capitolo siamo nell'ospedale, di cui vi avevo già parlato nei video precedenti, in cui Lana è stata per un bel po' di tempo. Qui c'è praticamente un'infermiera impazzita, che fa parte della storia pure lei. Comunque dovete fare attenzione a non far rumore. Infatti per terra vedete che ci sono pezzi di vetro, questi cartelli di metallo. Cercate di non far rumore, possibilmente. Dobbiamo cercare sei pezzi di una mappa. Ecco, l'infermiera è quella, che palesemente mi ha visto. Comunque quando vi vede basta correre, ragazzi. Allora, andiamo subito sulla destra, perché c'è la stanza di Lana, che è la stanza numero 3. E si recupera il primo pezzo della mappa, che è dietro il letto. Oltretutto c'è anche il suo diario, sempre di Lana, però queste cose qui poi le andremo a vedere bene nel video di domani. L'altra è nella caffetteria e vi basterà... è sulla sinistra, sostanzialmente. Comunque è qui in fondo, sempre al primo piano. Le altre, invece, dovrebbero essere tutte al secondo piano. Quindi andate in centro, salite le scale, sempre senza far rumore. Andiamo sulla sinistra, stanza ricreativa. Anche qui c'è un pezzo di mappa dietro queste scatole. Poi l'altra è nell'ufficio dell'infermiera, però qui state attenti perché appena lo raccogliete l'infermiera spawna. Ok, il quarto è nel magazzino, è verso il centro, sempre del secondo piano. Ah, comunque, ragazzi, vi potete anche nascondere negli armadi che trovate. E l'ultimo è nei bagni. Ce n'è uno qui, anzi, non so se è l'ultimo. Allora, uno è nel gabinetto qua. Ok, è l'ultimo. Quindi in realtà sono cinque. Praticamente adesso, quando avete trovato i cinque pezzi, dovete correre, seguire questa scia rossa e entrare nella porta sempre rossa. Comunque la si vede, è stra-evidente. E qua adesso bisogna fuggire dall'infermiera. Anche qui, ragazzi, correte. Quando riuscite, usate lo shiftino. Soprattutto qua, dove non ci sono ostacoli. Cerchiamo di sbrigarci perché l'infermiera ci sta alle costole. Andiamo, 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 andiamo. Veloci, 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 veloci. Mamma mia, spero di riuscire a farlo. Spero di riuscire a farlo, ragazzi. Saltate dove dovete saltare. Allora, in realtà è abbastanza semplice. Ok, ce l'abbiamo fatta. Eccola lì l'infermiera. Ups. Volata giù. Ed eccoci qua, uscite. Fatto. E questo era il capitolo 2. Che finito vi porterà direttamente al capitolo 3, dove conosceremo Serena. Anche di questo personaggio, poi ne parleremo più avanti. Ve ne avevo già parlato in precedenza perché c'era un suo account su Roblox. Ed effettivamente è identica. E ci porterà all'interno delle catacombe. Poi praticamente ci ritroveremo in un labirinto. E anche questo ve l'avevo fatto vedere nei video precedenti. Comunque, qui c'è un indizio. Dice, la luce guiderà la tua strada, insomma, la via. Sostanzialmente bisogna seguire, eccole queste qua, queste piccole lucciole. Ma in realtà c'è anche un altro trucco. Perché sul pavimento, non so se lo vedete, c'è una specie di striscia rossa, molto flebile. Si nota a malapena, raga. Però anche questa indica la via. Non si nota tantissimo, poco. Comunque, seguendola, troverete poi la strada. Io adesso vi lascio il video con la musichetta in sottofondo. Così potete sapere qual è la strada da seguire. Comunque vi ripeto, cioè un po' si vede la... Ecco, vedi? Qua si vede. Qua si vede che c'è la striscia rossa. Ovviamente saltate tutte le trappole, mi raccomando. In realtà le trappole sono anche facili da evitare. Perché poi, cioè, vi basterà veramente saltare o anche solo camminare in realtà. Poi, comunque vi ripeto, avete sei vite. Quindi, anche perché ogni cuore... Cioè, vedete? Questo qui l'ho passato camminando, raga. Questo saltate e via. Comunque dicevo, ogni cuore vale per due. Anche questi, cioè, basta andare di fianco e ce la fate. L'unica cosa, fate attenzione a questi quadrati scuri perché ci sono le trappole in alto. Mi raccomando. Ed eccoci arrivati. Perfetto. E poi incontreremo Lana Doppelganger e Lina. Anche qui non vi spoilerò nulla, tanto domani vi faccio uscire tutto il video con la lore completa. Vi traduco anche tutto quello che si sono detti all'interno di questi capitoli. Perché, come vedete, tutto è in inglese. Non è stato tradotto, non vi preoccupate, ve lo traduco io. Domani spiego tutto. Sostanzialmente, vabbè, assisteremo alla trasformazione di Lina in un demone. E qui dovremo salvare, appunto, la lana originale rinchiusa nella gabbia. Configgendo, appunto, Lina. Quindi prendiamo la nostra falce. Adesso, qui si può correre, sempre con shift. Con il click sinistro, semplicemente si attacca. In questi portali, raga, escono le lane Doppelganger. State su uno dei portali e continuate a spammare, a spammare. E uccidete tutte le Doppelganger che escono da questo portale. Tanto escono sempre da uno. Poi, quando compaiono questi sassi, salite sul masso. Perché lei, sostanzialmente, ecco, fa apparire questa specie di, non lo so, melma nera, petrolio, qualunque cosa sia, void. Che vi fa del male. E adesso si parte ai missili rocciosi di Lina, ecco. Quando compaiono queste strisce rosse, semplicemente dovete schivarle. Sono abbastanza facili da schivare, raga, niente di drammatico, ecco. Cioè, vedete, la maggior parte delle volte cammino. Però se non riuscite, correte premendo shift. A parere mio, è molto più difficile il livello dell'infermiera che altro. Quindi quello potrebbe essere un pochino più tosto da fare. Anche se, ripeto, non è niente di drammatico, ragazzi. Poi se lo fate con altre persone, ancora meglio. Perfetto, fatto questo, Lina scende, legge dal suo palco. Adesso semplicemente qui parte col tornado. Voi correte, correte, in realtà anche camminando. Non vi becca, però vabbè. Adesso si metterà in mezzo. Perfetto. E qui farà partire delle onde che dovrete schivare saltando. Ok, ora che è rossa, attaccate. Si spamma. Si spamma pesantemente. Via, spammate, spammate. Diciamo che nel giro di due turni dovreste riuscire a farlo. Però uno, vediamo. Però secondo me due. Quando l'ho fatto con otto persone, comunque ci sono voluti due turni. E adesso, stessa cosa di prima. Ed eccoci qui. Fatto. Perfetto. Così avrete finito anche il terzo capitolo. Quindi abbiamo finalmente liberato la lana originale. E vi ritroverete nuovamente nella lobby. I nuovi vestiti li trovate nei camerini. Nell'ultima scheda, in fondo.